Il concerto di Noemi ha chiuso a Torta Nova il programma della festa patronale. Dopo due settimane dal rinvio causato dalle condizioni di maltempo, l'artista romana ha portato nella città capofila dei reali siti il suo Luna Tour, con i successi di dieci anni di carriera cantati ed apprezzati dal pubblico, che per ragioni di sicurezza non ha potuto superare le 3.000 presenze nell'area predisposta dalla prefettura, con aree di prefiltraggio che hanno limitato gli accessi. Prima del concerto il presidente del comitato festa, Rino Manzi, ha ringraziato tutti i collaboratori del comitato che negli scorsi mesi hanno prestato il loro aiuto nell'organizzazione della festa. Un caloroso ringraziamento al comitato lo ha rivolto anche il primo cittadino, Dino Tarantino, salito sul palco prima del concerto. Ora si pensa già alla prossima festa patronale. Sarà fondamentale però programmare per tempo. La concomitanza con le amministrative del 2019 potrebbe infatti rendere più complicata l'organizzazione. La collaborazione tra il comitato e l'amministrazione comunale negli ultimi anni ha permesso di ospitare nomi importanti del panorama musicale italiano. Un binomio quindi da confermare per continuare a far crescere la festa patronale.